Ciao, bentornati sul canale! Oggi parliamo di questo compressore che mi accompagna ormai da qualche mese nelle elaborazioni con la CNC taglioplasma e nelle verniciature di questo arredo officina che sto costruendo step by step. Se vi siete persi i contenuti vi lascio sotto in descrizione il link alla playlist di tutte le elaborazioni, dalla progettazione, la costruzione delle strutture, ante, cassetti, verniciature, fino alla parete attrezzata e ce ne saranno ancora altri. Direi che è il caso di cominciare non prima di avervi raccomandato di iscrivervi al canale, attivare le notifiche per non perdere nuovi contenuti, seguirmi sui social, fare una bella condivisione che non fa mai male. Cominciamo! Con il progetto arredo officina ho cominciato a avere i primi sentori che il compressore andava sostituito, infatti nelle fasi di verniciatura ho dovuto stringere tantissimo il ventaglio perché non avevo abbastanza aria e ci ho impiegato veramente veramente tanto, fino poi a scontrarmi completamente con il problema con l'arrivo della CNC plasma. Con questa attrezzatura infatti non è possibile ridurre le prestazioni per cercare di lavorare comunque, bisogna fornirgli quello che richiede. Prima di sostituire un'attrezzatura ovviamente ho fatto comunque la prova per vedere se si riusciva a comer qualcosa non c'è stato verso, il silenziato è veramente poco poco prestazionale, quello lubrificato ha il doppio a livello di litri al minuto però comunque non era sufficiente per garantire quanto richiesto dal produttore del generatore plasma e qui cominciano a evidenziarsi cose importanti rispetto a prodotti professionali. Infatti qua vengono sempre dichiarati i litri aspirati per riempire la scheda tecnica di numeri più grossi, non sappiamo mai quanto sono in grado di erogare, si viene affidati a formule, valori spannometrici, non sappiamo mai quanto è in grado di spingere il compressore che abbiamo a disposizione. Avrei potuto orientarmi su silenziati multimotore o lubrificati di maggior potenza e litraggio, l'incognita rimaneva sempre quella, infatti guardando sui vari e-commerce con tanto di schede tecniche anche molto complete, il dato che veniva fornito era sempre i litri al minuto aspirati e non c'era una garanzia dei litri al minuto erogati. Finché curiosando in rete, guardando migliaia di schede tecniche, video e così via, sono arrivato a questo prodotto di qualità, quindi un prodotto professionale dove venivano dichiarati i litri al minuto e la pressione, quindi con questo prodotto io ero sicuro, certo di riuscire a far funzionare il macchinario. Soddisfatta l'esigenza principale per far funzionare il macchinario che mi richiede 145 litri al minuto a 5 bar, questo compressore in grado di erogarne 200 a 5 bar, quindi siamo ampiamente dentro le richieste. Seconda necessità molto importante, anche per quanto mi riguarda, voglio lavorare in una situazione abbastanza di comfort e soprattutto non voglio rompere le balle al vicinato, ho un contesto di villette intorno a me, non voglio essere di disturbo. Questo compressore, a differenza di quelli tradizionali lubrificati che vanno intorno ai 94-97 decibel, lavora a 68 decibel. In futuro sarà anche possibile installare la boxatura, infatti questi prodotti vengono forniti a studi medicali, per l'industria alimentare e così via, quindi sarà possibile addirittura abbattere di ulteriori 12 decibel per la mia gioia. Terza caratteristica molto importante riguarda le dimensioni. Le prestazioni che riescono a far funzionare questo macchinario CNC oppure le lavorazioni di verniciatura sono tutte ridotte in questo piccolo compressore da 24 litri. Per ottenere le stesse prestazioni avrei dovuto orientarmi su prodotti da 50 litri a cinghia o 100 litri e così via, prodotti veramente veramente voluminosi che non stanno molto nel mio piccolo laboratorio. Queste erano le tre caratteristiche fondamentali senza il quale non mi sarei orientato su un prodotto che non soddisfava le mie esigenze di prestazioni, rumorosità e dimensioni. Oltre a questo poi ci sono altre caratteristiche altrettanto importanti per un utilizzo professionale. L'utilizzo per esempio con una CNC taglioplasma non permette l'interruzione del ciclo di lavoro. Se il compressore non ci sta dietro rischiamo un degrado della fase di lavoro o l'interruzione della stessa e poi è sempre difficile andare a riprendere la posizione per fargli rifare quella parte di lavorazione che è uscita male o si è interrotta. Sulla continuità di lavoro questo compressore non ha nessun problema. Motore di classe S1 bicilindrico che permette di lavorare in continuo senza interruzioni. Ciclo di lavoro 100%. Come vedete da questa scritta il compressore non è lubrificato va quindi a eliminare delle problematiche relative alle manutenzioni, il deterioramento del lubrificante e di alcune componentistiche. In questo modo potremo anche lavorare nelle condizioni più varie da quella più fredda a quella più calda senza che il variare della condizione atmosferica interferisca sul lubrificante che non c'è. Altro vantaggio del compressore non lubrificato è che possiamo posizionarlo in laboratorio, in officina, agganciarlo, trasportarlo, posizionarlo sul furgone o sul camion anche in diverse posizioni da quella verticale senza la preoccupazione che un lubrificante un fluido vada in giro per il motore e combini qualche pasticcio. Non ci sono problemi. Altra bella caratteristica di questo compressore è il rivestimento interno del serbatoio con epossidica. Avremo quindi una lunga durata della nostra attrezzatura a differenza dei compressori tradizionali che quando andiamo a sfiatare immancabilmente esce tutta la poltiglietta piena di ruggine perché la condensa va ad aggredire le pareti metalliche interne del serbatoio e pian piano col tempo le va a logorare. Qui non succede, esce condensa pulita. La condensa esce pulita dal serbatoio ma anche dagli accessori che andiamo ad applicare. Esempio l'aerografo sarà sufficiente di blocca condensa ma non dovremo preoccuparci di particelle di ruggine che vengono espulse dal serbatoio o residui oleosi. Niente di tutto ciò. Prima di metterlo in funzione vi mostro un dettaglio relativo al filtro. Ecco qua, è molto semplice anche poi andare a soffiare, dargli una pulita o sostituirli. Questa soluzione che integra i filtri nei gruppi testata va a eliminare il problema del danneggiamento che capita veramente spesso. Chi li utilizza in cantiere e li deve caricare sul furgone e il camioncino lo sa che è inevitabile perché li hanno creati proprio sporgenti fatti apposta per danneggiarsi. Ne avrò cambiati 4-5 in un paio d'anni. Può capitare anche in laboratorio di batterci dentro passandoci in parte. Sui furgoni andando ad appoggiarli, trasportandoli, capita ancora più spesso e la rottura di scatole quando si spacca filo poi bisogna star lì a rimuovere la parte di filetto rimasta all'interno della sede. Qua non abbiamo questo problema. Per quanto riguarda confronti prestazionali tra i vari compressori non penso abbia senso farli, prima di tutto perché non sono un centro collaudi, non ho strumentazioni, attrezzature come flussimetri e altre apparecchiature professionali per darvi dei rilevamenti che abbiano senso. Secondariamente questi sono prodotti di target hobbistico e questo è un prodotto professionale. A me quello che interessa è che soddisfi delle esigenze. Come vi dico sempre il prodotto perfetto non esiste ma esiste il prodotto perfetto per soddisfare delle esigenze. Quindi adesso vi sto dando l'opportunità di conoscere una nuova apparecchiatura che ho dotato. Per me può essere valida, per qualcun altro no. Ovviamente questo prodotto ha un costo da prodotto professionale. Questi sono collocati in altra maniera. Sicuramente avendo a disposizione un 50-100 litri da due cavalli e mezzo tre poteva reggere un po' meglio il confronto anche se poi c'era il rovescio della medaglia su dimensioni, peso, rumorosità e così via. Quindi lascio stare un po' i confronti. Detto ciò ora andrei a fare una piccola prova d'ascolto. Quindi vado a posizionare uno alla volta i compressori attaccati alla volgitubo, li vado ad accendere, un attimo di silenzio per farveli sentire in funzione e poi un attimo con su del parlato per vedere quant'è il disturbo rispetto alla voce della persona. Questa è la postazione di lavoro e questo è l'impatto della mia voce rispetto al rumore del compressore. Questo è il rumore del compressore e questa è la mia voce rispetto al rumore del compressore questo era il rumore del compressore e questa è la mia voce in sovrapposizione al compressore in funzione. Bene, non mi dilungo ulteriormente perché quei pochi secondi con il lubrificato acceso mi hanno fatto partire mal di testa. Io continuerò a portarvi bella attrezzatura come la CNC plasma, il compressore, altre che devono arrivare nel weekend, bei progetti come la realizzazione della re d'officina completamente da zero, se non avete visto la realizzazione del tavolo da saldatura, il carrello per le saldatrici e tante altre cose. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche, seguitemi sui social e soprattutto datemi un po' di supporto con una bella condivisione. E le informazioni relative a quello che vedete sul canale, come al solito, le trovate in descrizione al video. Ciao, alla prossima!